In un tempo di crisi in cui è sempre difficile trovare fondi per ristrutturare quello che non va, per rendere migliori gli edifici scolastici, una cosa del genere è davvero preoccupante su ciò che stiamo diventando? Certo, ma io sono sicuro che quanto accaduto non ha nulla a che vedere con le forme civili di protesta che sono state intentate negli ultimi giorni nei confronti della riforma scolastica, nei confronti dei problemi dell'edilizia scolastica, credo che si tratti in questo caso di puri atti vandalici compiuti sicuramente da uno sparuto gruppo figli del malessere sociale che stiamo vivendo in questi tempi, che la nostra società sta vivendo in questi tempi. In qualche modo avete già pensato come sostenere, perché ci saranno sicuramente dei danni, delle cose su cui intervenire? Per il momento ci stiamo preoccupando di sanificare gli ambienti per poter permettere il regolare ripristino dell'attività scolastica, la ripresa del servizio scolastico. Immediatamente dopo ci preoccuperemo di reperire le risorse necessarie per fare quegli interventi di manutenzione straordinaria per garantire un regolare svolgimento delle lezioni. Grazie a tutti!